Al via i festeggiamenti in onore di San Costabile Gentilcore nel comune di Castellabate. Domani, sabato 9 febbraio alle ore 16.30, è prevista la novena e il Santo Rosario. Domenica 10 febbraio in occasione della giornata mondiale del malato. Alle 10 e alle 17 si terrà la Santa Messa. Lunedì 11 febbraio invece il Santo Rosario e la novena alle 16.30. Il giorno successivo, martedì 12 febbraio, sempre alle 16.30, sono previsti il Santo Rosario, la novena e la Santa Messa con le confraternite. Mercoledì 13 invece alle 16.30 il Santo Rosario e la novena, mentre agli ore 16 del giorno 14 febbraio si terranno il Santo Rosario, la novena e la Santa Messa, a seguire un convegno sulla figura di San Costabile Gentilcore Abate e la cultura benedettina nella terra di Castellabate del Cilento. Venerdì 15 alle 16.30, in programma il Santo Rosario e la novena. Ore 18 invece il concerto dell'orchestra di fiati giovanili del Cilento. Sabato 16, giorno della vigilia della festa invece, è previsto alle ore 9.30 un incontro con le scuole. Ore 15.30 confessioni e momento di preghiera con i ragazzi del Catechismo. Alle 16.30 invece il Santo Rosario e la novena e la Santa Messa. In programma anche il concerto per San Costabile. Domenica 17 febbraio invece il giorno della festa. È prevista la Santa Messa agli ore 11, preseduta da Monsignor Ciro Miniero. Ore 17 Santo Rosario e le 17.30 la Santa Messa e la processione per le vie del paese, con le statue di San Costabile e Santa Irene. Il giorno successivo invece è lunedì 18 ore 17. È in programma la reliquia di San Costabile a Ceraso. Condividiamo la santità. Infine, domenica 24 febbraio è prevista la Santa Messa agli ore 16, al cimitero con il busto di San Costabile. Finoria! Finoria!